Nelucco Orlando, deputato nazionale d'Italia dei Valori, di cui è portavoce, nonché Presidente della Commissione parlamentare di inchiesta sui errori in campo sanitario e via dicendo, ma soprattutto ex sindaco di Palermo, questo ma soprattutto le dà fastidio o no? Come potrebbe dare fastidio? Io credo che nella mia esperienza non ho vissuto mai e non vivrò mai un'esperienza così bella come sindaco della città di Palermo, non so se farò il Presidente del mondo o mi ritirerò a scrivere poesie in qualche rifugio di montagna, una cosa è certa, non vivrò mai più un'esperienza così esaltante, la sensazione di contribuire con i tuoi gesti, con i tuoi comportamenti, con i tuoi sogni, con le tue sconfitte, con le tue vittorie a cambiare il volto non solo di una città, ma anche il volto e il sorriso dei poteri in Italia. Come la trova Palermo oggi? Tormentata e abbandonata, sporca, senza futuro, è come se vivesse una condizione di disagio, ma si può sempre vivere nel disagio, è come se fosse malata, ma capita di essere malati, ma è come se fosse sporca, ma capita di essere sporchi, senza speranza però, né di guarire, né di essere finalmente pulito, né di vivere in condizioni migliori. Ci sono le condizioni per una nuova primavera? Se non ci sono bisogna costruire. Attenzione, perché allora la nuova primavera si costruì, c'era una condizione fondamentale, era l'emergenza mafiosa. Oggi le emergenze non mancano, se vogliamo considerare le emergenze economiche, le emergenze ambientali. La vecchia emergenza era costituita dalla violenza criminale della vecchia mafia e a quella si dispose con la indignazione dei cittadini, con la scoperta dell'orgoglio di essere palermitani, con la affermazione che chi nasce rotondo può anche morire quadrato, cioè che cambiare è possibile, nonostante qualcuno andava ripetendo che chi nasce rotondo può morire quadrato. E che la meglio parola è quella che non si dice. E che la meglio parola è quella che non si dice. Un altro orribile. Invece questa città si è messa a parlare, a gridare, ha aperto gli occhi, ha aperto la bocca, ha aperto le orecchie e ha sconfitto culturalmente la vecchia emergenza della vecchia mafia. Siamo nel terzo millennio, siamo nel 2010, siamo nell'Europa di Schengen e le emergenze si presentano col volto nuovo della nuova mafia, le emergenze si presentano col volto nuovo dei conflitti di interesse, le emergenze si presentano col volto nuovo di caste che si chiudono nei palazzi e non ti domandano chi sei, che cosa sai, che cosa sai fare, ma ti domandano a chi appartieni. Se la tua appartenenza è debole puoi essere anche Einstein, verrai massacrato, se la tua appartenenza è forte puoi essere un farabutto, farei carriera e allora occorre una nuova indignazione nei confronti di una nuova emergenza. E lei che ruolo intende giocare? L'indignato, ma vorrei non restare solo, vorrei essere l'espressione di un'indignazione che riguarda migliaia e migliaia di palermitani, che riguarda quella maggioranza di palermitani che si indignò ieri contro le vecchie emergenze e che deve tornare a indignarsi oggi contro le nuove emergenze. Io sicuramente voglio essere impegnato quando cadrà questa non sindaco di Palermo, quando cadrà questa non amministrazione di Palermo, che ci sia stato un sindaco e che ci sia stata un'amministrazione se ne sono accorti soltanto i beneficiati, che sono una cerchia ristretta, tutta rigorosamente parenti, affini o conviventi di amministratori comunali, il che è francamente una bella vergogna ed è un insulto ai tanti che studiano, che si impegnano, che lavorano e che vorrebbero non avere come unica alternativa la fuga da questa città. Quindi vuole tornare a fare il sindaco di Palermo? Voglio tornare a occuparmi della città di Palermo contribuendo in maniera determinante all'elezione del nuovo sindaco. Che sia io o che sia un altro, conta veramente relativamente perché è tale il mio amore per questa città che non anteporrò mai il mio impegno, il mio ruolo al cambiamento di questa città. Lei mi sta chiedendo. Lei me lo sta dicendo in politichese. Lei mi sta chiedendo se io mi candiderò al sindaco di Palermo. Io le risponderò nell'unico modo che dimostra l'amore per questa città. Se io dicessi che mi candido al sindaco di Palermo commetterei un errore, se io negassi di candidarmi al sindaco di Palermo commetterei un errore. A me in questa fase è dato il dovere di non dire se mi candido o non mi candido tenendo pronta la mia candidatura qualora le condizioni sono necessarie a questa mia scelta, qualora le politiche non dei partiti, politiche della possibilità di candidarmi secondo le mie condizioni e le condizioni dei cittadini e non di partiti che fanno inciusci a livello regionale. Le dico subito con grande chiarezza. Poi se è politichese, non lo so, secondo me è politica quella buona. Io non sosterrò mai un candidato sindaco di Palermo, neanche se si chiamasse Luca Orlando, il quale dovesse essere sostenuto dal Partito Democratico che sostiene la giunta Lombardo. Mai! Ma Orlando è candidato e è lui la garanzia. Mi dispiace, non ci sto, perché io credo che in questa città si vince quando non si ha paura di perdere. Io credo che in questa città la vera prudenza è la rottura. Questa città non ha bisogno di una fotocopia, della fotocopia di cammarata, ha bisogno invece di una vera alternativa. E quindi Davide Faraone come lo vede? Lui ha fatto questo strappo. Lui ha 35 anni, vuole diventare sindaco di questa città, un po' con la forza e la propulsione di contro tutto e contro tutti. Non mi interessa la candidatura di Davide Faraone, non mi interessa perché lui sta nel PD che sta con l'MPA e quindi sicuramente saremo su campi diversi. Fintanto che il PD sostiene il governo Lombardo, Faraone si faccia il parlamentare del PD, sostenga la regione, il governo Lombardo e consente a Palermitani di scegliere su un sindaco che non abbia questo handicap terribile. Con lei Palermo ha vissuto indubbiamente una stagione unica. Qual è l'errore che secondo lei i palermitani non le hanno perdonato? Ma io credo che l'errore che i palermitani… Proprio pensando la colpa freddissima. Sì, io credo che l'errore che i palermitani non mi hanno perdonato è anche il mio più grande merito. Non mi hanno perdonato di aver amato troppo questa città ed è stata la mia forza e la mia debolezza. Probabilmente avrei dovuto non amarla di meno, perché al cuore non si comanda, avrei forse dovuto mostrare di amarla di meno, apparire un poco più calcolatore e un poco meno innamorato di questa città. Non ce l'ho fatta perché l'ho amata troppo, però è anche vero che quell'amore ha prodotto risultati straordinari in questa città. Io voglio ricordare il dato più freddo possibile, lontano mille miglia dalla regola del cuore. Palermo, quando io ero sindaco, aveva un rating finanziario, una credibilità sui mercati finanziari internazionali pari a A3, cioè avere rapporti con il sindaco di Palermo, avere rapporti con l'amministrazione comunale, quella pubblica, quella di Palermo, quella di Palazzo delle Aquili, in piazza delle vergogne, era meno rischioso che avere rapporti con una multinazionale che a Torino fabbricava e fabbrica macchine, pare che si chiami Fiat, ed era meno rischioso che avere rapporti con il governo italiano. Questo in quella famigerata realtà pubblica comunale di Palermo. Lo dico perché sarebbe troppo semplice citare il risanamento del centro storico, la riapertura al Teatro Massimo, Pina Baus, Pedro Almodovar, citare Dodin, citare il risveglio culturale, citare la scoperta fatta dai palermitani che la cultura produce economia. Oggi a Palermo si incontrano due persone e uno dice all'altro ma tuo figlio cosa fa? E l'altro dice il violinista, sa come incalza l'amico? Si va bene ma cosa fa? L'insegnante si va bene ma cosa fa? Il medico si va bene ma cosa fa? Fa il giornalista si va bene ma cosa fa? Fa lo scritto, si va bene ma cosa fa? Quando io parlo con i miei amici tedeschi, francesi, inglesi, spagnoli e qualcuno dice mio figlio fa il violinista, complimenti, farà carriera, diventerà pure ricco. Invece qui si è distrutta la professione di un'età, tutti invece attenti a chiedere e tutti attenti ad aspettare la risposta alla domanda a chi appartieni e se l'appartenenza è espressa con un cognome forte puoi essere pure un farabutto, farei carriera.